Grazie Nicolosi a Cermodena. L'intervento che ho fatto riguardava la parte degli edifici pubblici che naturalmente sono strettamente collegati con gli edifici privati perché fanno parte tutti insieme di un contesto urbano. Quello che ho voluto dire nel mio intervento è stato che a Cermodena EXI-ACP si è sempre occupato di integrare bene gli interventi che noi facevamo e di curarli particolarmente dal punto di vista della manutenzione e della gestione. Questo ci ha portato ad avere dei buoni risultati e quindi ad avere una resa dei nostri edifici dal punto di vista sismico e dal punto di vista energetico già abbastanza buono. Naturalmente abbiamo avuto dei danni, abbiamo avuto anche cinque edifici da abbattere e che a breve ricostruiremo. Però l'invito che ho voluto fare ai nostri amministratori è stato quello di pensare al terremoto come a una nuova opportunità per pensare alle città non solo dal punto di vista edilizio ma soprattutto dal punto di vista urbanistico. Le nostre città non sono fatte solo di case, sono fatte soprattutto di luoghi non costruiti, di piazze, di luoghi di incontro, di vie principali. E quindi la corretta posizione dell'edificio sociale all'interno di un determinato quartiere può non essere più un motivo di malcontento per gli altri abitanti del quartiere ma può diventare un'opportunità per integrare bene chi è diverso da noi. Questo era il nostro invito, cioè cercare di pensare alle città in una maniera diversa e pensarci già quando si progetta dal punto di vista urbanistico.